Bell'Urania, Spagna Motta e riparte Bergamo, è la palla di Planetio, per bastone, vedremo se gli scarti ci potranno aiutare in questo senso di anticipare un po', mentre Milani con il suo super, Milani, Gersetti in angolo, Pagliari su lui, attacca a Pagliari, spalle, tira dall'estanamento, difficilissimo di Mario Gersetti, si muova di caro organizzato, palla persa, il passo di bastone, contropiede, grande stoppata di Chiarello, Scari per Pulazzi, con ritardo e bravo Milani, a servire Pulazzi e Chioda, la schiacciata, che vale i versi più civili. Grazie a tutti!